L'integrazione delle nostre fabbriche nell'ambiente che le circonda è un nostro obiettivo primario. Per questo siamo attenti alla conservazione e al recupero della biodiversità. Con il supporto di enti universitari di ricerca abbiamo elaborato una nostra metodologia per valutare il livello di biodiversità presente nelle aree che circondano i nostri plant, in modo da individuare quelle dove è opportuno intervenire con azioni bionaturalistiche. Molte di queste attività sono già in corso in alcuni dei nostri stabilimenti e in futuro verranno implementate in nuove realtà. Parlare di biodiversità qui a Verrone vuol dire confrontarsi ogni giorno con un'area di bosco protetta, un'area che si estende all'interno della nostra fabbrica per quasi 2 milioni di metri quadrati di terreno. Per ridurre il nostro impatto ambientale non basta ridurre i consumi energetici e quindi le emissioni di CO2, ma occorre utilizzare energie rinnovabili. Oltre a un percorso didattico all'interno del bioparco abbiamo messo a disposizione un'ampia area per la realizzazione di un campo fotovoltaico che fornisce energia elettrica alla comunità. Noi siamo convinti che la biodiversità sia il nostro capitale naturale e come tale intendiamo salvaguardarlo e preservarlo.